Ed eccoci ragazzuoli, finalmente ci siamo! Ritorniamo a parlare di Dragon Ball Z Kakarot con il terzo DLC del gioco. Il secondo DLC, quello con i Super Saiyan Blue, è uscito quanto tempo fa? Sei mesi fa? È passato un bel po' di tempo, ma finalmente l'11 giugno, e questa la data fatidica, finalmente avremo tra le mani il nuovissimo DLC di Dragon Ball Z Kakarot. Vi dico un paio di cosucce prima di fare una nuova reaction a quello che è appunto un nuovo trailer dedicato al gioco, o meglio a questo DLC, si tratta di un gameplay trailer, quindi vedremo direttamente dei combattimenti e non vedo l'ora. Mi raccomando, pollice in su ora! Vi voglio carichi al massimo, perché non appena questo DLC uscirà, quindi l'11 giugno, lo vedrete qui sul mio canale YouTube. Faremo una sorta di miniserie, probabilmente durerà 2, 3, 4 episodi in base alla durata del DLC, e poi andremo a vedere sicuramente anche quelle che saranno le missioni secondarie, un po' in pratica come abbiamo fatto per il gioco principale, per il DLC numero 1 e per il DLC numero 2. Non vedo l'ora, ragazzi, perché la storia di Trunks del futuro, e anche di quella di Gon del futuro, è una delle mie storie preferite, è una delle cose che mi ha sempre attirato di più del mondo di Dragon Ball, e non vedo l'ora di andare a scoprirla direttamente con voi all'interno di una miniserie. Io vi dico da subito, ripeto, che il DLC uscirà l'11 giugno, ma c'è un'altra cosa interessante, prima di fare la reaction, su cui voglio porre l'attenzione. Dopo qualche giorno, ovvero il 13 giugno, ci sarà la conferenza di Microsoft, e quella conferenza dedicata appunto al periodo dell'E3, quindi uno dei eventi più importanti annuali in cui vengono presentati nuovi giochi e tutte ste cosucce, potrebbe presentarci qualche novità interessante. Teniamo gli occhi aperti, poiché in conferenze come queste, in passato, dei giochi sono stati annunciati. Vedessi, ad esempio, se non sbaglio era Dragon Ball Fighters, che era stato presentato nel corso della conferenza Microsoft Alley 3. Potrei sbagliarmi, non vorrei fosse Kakarot, ma correggetemi voi nei commenti nel caso. A prescindere da quale sia il gioco, questo non ci interessa. Quello che voglio dire è che probabilmente, o forse, chi lo sa, potrebbe esserci un nuovo annuncio nel corso di questo mese di giugno per un nuovo titolo di Dragon Ball. Qualcuno parla di un Dragon Ball Super Kakarot, qualcuno invece parla di Dragon Ball Xenoverse 3, ma facciamo prima la reaction a questo nuovo trailer, e poi ne riparliamo magari in un secondo momento nel corso di questo video. E direi 3, meno 2 fa 1, via! Peggy 12! Ed è subito così, frate, lo lanciano bam bam bam! C'è il Gohan, tra l'altro, noto da subito qualcosa di folle, che ormai nei giochi di Dragon Ball, ragazzi, non si vedeva proprio più. C'è Gohan, che in pratica è Gohan del futuro, e ha un singolo braccio, ne ha uno solo. Come vedete anche la Kamehameha, giustamente, avendo ormai un solo braccio, la riesce a fare con una singola mano, ed è qualcosa di totalmente folle. Io vi ricordo, infatti, ragazzi, che in Dragon Ball Xenoverse 2, purtroppo, Gohan il braccio ce l'ha. Questo è dovuto, praticamente, a censure e robe simili, e invece qua, per questo, dirsi non è così. Mi aspettavo però un trailer diverso, perché quello che sto vedendo, nonostante mi stia gasando un botto, perché i combattimenti, comunque, sono spettacolari, belli, dinamici, veloci. Nonostante tutto, pensavo ci fossero anche, non so, immagini, cutscene, scene varie, e invece no, c'è solo, in pratica, proprio Gohan. Noto che, in basso a sinistra, ecco, ha il Super Masenko, Kamehameha, Body Impact, e poi cos'era? Clanchi? Non ricordo quale fosse la sua mossa. Chiaramente, sicuramente, per lui sarà possibile andare a sbloccare altre mosse nel corso della, non so, della crescita del personaggio che faremo. Io ho il presentimento, o almeno spero, che questo DLC possa durare un po' di più, eh. Perché magari dovrebbe raccontare una storiella, magari un po' più lunga, magari ti fa controllare anche Trunks. E sto notando che i due, come vedete, perché i boss sono due, C-17 e C-18, fanno anche mosse specifiche, come la Cross Dance. Ecco, loro due attaccano insieme, contemporaneamente. Lì sono riportati livello 40. Uuuuh, la scarica, ragazzi, da quanto tempo non la vedevo? Cioè, io non gioco a Cagrot, credo, dall'uscita dell'ultimo DLC, quindi da mesi. Sarà dura ritornare a giocarci. Però, ragazzi, vedo che Gohan martella veramente tantissimo. Lo stile di combattimento che gli appartiene mi piace un botto. È molto particolare questo scontro, perché, come vedete, gli attacchi arrivano da due direzioni, nonostante poi, alla fine dei conti, il personaggio che possiamo controllare è uno. Tant'è vero che io vedo qui, in questo determinato momento, che Trunks non c'è. Che questa sia proprio quella battaglia che purtroppo decreterà la fine di Gohan del futuro, non è da escludere. Non è da escludere, perché non essendoci Trunks, è probabile. Tra l'altro, guarda come blocca Gohan con quest'attacco. Gohan però è riuscito a liberarsi. È folle come cosa, ragazzi. Mi piace un botto. Mi piace... È di nuovo bloccato. Ragazzi, è una figata. Bloccato in maniera totale, e nel frattempo lui subisce un botto di danni. Come vi stavo dicendo, poi purtroppo sono stato interromto da quello che succedeva a schermo, in pratica sia Gohan che anche i nemici hanno il livello 40. Molto probabilmente all'interno del DLC i livelli saranno differenti. Questa è solo, diciamo così, una presentazione del gameplay un po' randomica. E... E devo dire la verità, ragazzi, mi piace veramente tanto. Anche proprio lo stile di combattimento di Gohan. Era il Grashin... Che era la mossa? Poi, vabbè, ha anche la trasformazione. Probabilmente avrà come trasformazione proprio il Super Saiyan del futuro. In questo gameplay, almeno per ora, non si vede Gohan nella sua forma base. Quindi, credo ci sarà. Credo ci sarà, perché poi appunto nel melu lì c'è la trasformazione. Vediamo un'altra scarica veramente folle. E poi finisce qua. Finisce qua. E se metto in pausa, possiamo vedere appunto DLC A New Power Awakens. Praticamente i due DLC 1 e 2 che abbiamo già visto, già giocato e di cui ho fatto la serie qua sul mio canale YouTube. Andate a vedere questi video poiché sono sicuro vi piaceranno. E poi abbiamo The Warrior Hope. Praticamente il guerriero della speranza in cui andremo a vedere probabilmente quello che è tutto proprio l'arco narrativo dedicato a Trunks del futuro. Di sicuro non vedremo il futuro vero e proprio poi di Trunks, quello di Super. Poiché, appunto, come dicevamo, si parla di un ipotetico Dragon Ball Super Kakarot. Quindi che andrà in pratica a continuare quella che è la storia di Dragon Ball Z Kakarot. Questo, ragazzi, io credo possa arrivare. Perché Dragon Ball Z Kakarot è stato un titolo che ha avuto un buon successo. Quindi, devo essere sincero su questo, posso avere delle buone speranze. Però, ragazzi, sapete il mio cuore, il mio piccolo cuoricino a quale titolo effettivamente appartiene. Appartiene in generale alla serie Xenoverse. Quindi il mio sogno e forse resterà tale, chi lo sa, è sempre indirizzato verso un nuovissimo Dragon Ball Xenoverse che potrebbe forse essere annunciato a questo E3. Io me lo auguro un po' i miei dubbi, devo essere sincero veramente al massimo. Però potrebbe veramente essere una rivoluzione perché, ragazzi, ormai Xenoverse 2 è in giro da tanti anni. Noi continuiamo a giocarlo con piacere e comunque in maniera veramente divertente tramite le mod. Però io un Xenoverse 3 lo desidero e ne parliamo già da un paio d'anni minimo ormai. Tra l'altro, un Dragon Ball Super Kakarot lo desidero altrettanto, forse un pochettino meno rispetto alla serie Xenoverse, però vorrei comunque dei buoni miglioramenti. Mi piacerebbe in primis vedere una co-op per un Dragon Ball Super Kakarot perché altrimenti si resta troppo indirizzati verso appunto il capitolo di Dragon Ball Z Kakarot. E poi mi piacerebbe vedere in primis anche un miglioramento dell'impatto grafico. Già non è malissimo, però un self-shading ulteriormente migliorato, magari anche un impatto grafico superiore e poi tante altre piccole cosucce che magari andremo ad affrontare insieme in uno dei prossimi video. Chi lo sa? Io devo essere sincero ragazzi, non so se ci sarà un secondo season pass per Dragon Ball Z Kakarot. Come sapete alcuni giochi, come appunto è stato per Dragon Ball Fighters, ci sono più season pass. Quindi si fa un primo anno di contenuti, poi un secondo anno e quei season pass poi vanno acquistati uno dopo l'altro. Per un gioco single player come questo, forse questo terzo DLC potrebbe anche essere l'ultimo, chi lo sa? vi faccio notare tra l'altro una cosa interessante che mi ricollego a quello che dicevo prima. Ritornando alla schermata che sto vedendo adesso vi faccio notare che i primi due DLC erano due boss battle episodes. Quindi sono due episodi con boss battle. Invece il DLC, quello lì di destra di Trunks è a new story arc quindi un nuovo arco dedicato ad una nuova storia quindi come pensavo dovrebbe essere un bel po' più longevo quindi chi lo sa potrebbe essere anche una miniserie di 5-6 episodi piuttosto che di 2-3. Ragazzi io mi aspetto veramente tanto da questo DLC anche a livello proprio di emozioni poiché ragazzi la storia di Trunks del futuro la storia di Gon del futuro la storia del Goku del futuro purtroppo come sappiamo è seriamente tragica quindi proprio per questo motivo mi aspetto veramente tanto mi aspetto di emozionarmi con voi chiaramente l'11 giugno che ormai è a distanza di una settimana dal momento in cui sto realizzando questo video ormai è vicinissimo quindi veramente non vedo l'ora fatemi sapere voi se avete non solo giocato i due precedenti DLC di Dragon Ball Z Kakarot ma se prevedete anche di acquistare questo nuovo terzo DLC e se prevedete quindi in generale di giocarlo o magari lo guarderete da me in ogni caso a prescindere da tutto che lo guarderete o meno io vi sprono sempre a supportare quelli che sono gli sviluppatori quindi ragazzuoli che dire io vi ringrazio per essere stati oggi qua con me 11 giugno nuovo DLC di Dragon Ball Z Kakarot non vedo l'ora di iniziare una nuova serie con voi vi raccomando iscrivetevi al mio canale per non perdere ve la attivate la campanella delle notifiche così verrete avvertiti ogni qual volta uscirà un nuovo episodio io vi saluto e alla prossima ciao ciao